Deve essere una cosa davvero eccezionale, nella testa un'idea ce l'ho. Io vorrei fare il gioco della torre, salire in cima con Bertroni e Berlusconi. Ora non mi chiederei di più, non posso dire di le tue buttere giù. Lasciami fare il gioco della torre, e poi vedrai e mi deciderò. In fondo non è detto che alla fine, su quella torre da solo resterò. Vedi, vedi, quando uno viene una cosa del cedere, uno si prea. Certo, mi prego, mi prego, tutti precisi, precisi. Ogni giorno è una battaglia, non vanno mai d'accordo a quei due lì. Se uno vede bianco, quell'altro vede nero, e tutto un minestrone, un buco un rì. L'attenzione è solo un sogno, e del lavoro è meglio non parlare. Non voglio più aspettare qualcosa devo fare, la mia testa continua a girare. Io vorrei fare il gioco della torre.